Grande festa ieri per la Juve, anche se era soltanto la Coppa Italia, che comunque non è uno dei premi più ambiti dalle squadre, comunque è sempre una competizione importante, non è la Champions League, non è lo Scudetto, però dopo queste competizioni viene la Coppa Italia. Ha fatto stare ieri un gol strepitoso, strepitoso, del solito del Piero, di quei tiri che solo lui, del Pinturicchio, che arriva quasi a disegnare, quei tiri sotto al 7, da fuori aria, con un tiro sbalorditivo, ne abbiamo messi tantissimo di questo grande campione, che non sono juventino, però mi emoziona vedere questi gol, come anche a tutti gli amanti del calcio. Il secondo gol è la Juventus, la Juventus fa una festa, inaugura l'arena, il suo nuovo stadio, grande festa, strapazzata alla Roma, è mandata rispedita al Mittente con un secco 3-0, non ce n'è per nessuno, la Juventus in questo momento è molto forte, probabilmente è la squadra più forte in Italia in queste settimane, lo dimostra sia il fatto che è arrivata in semifinale in Coppa Italia, ma soprattutto il fatto che è prima in Serie A. C'è da dire che Borriello, appunto, ha giocato non tanto bene, era stato anche contestato tempo fa, Conte esalta, cioè esalta, lode il gioco della Roma e apprezza parecchia simpatia sia per Luiseriche che per la Roma, dirà che il tempo porterà i suoi frutti e Conte, appunto, abbiamo detto, e niente, molto bello questo gol di Del Piero, andiamocelo a ripetere, veramente ne ha fatti tanti, tantissimi.